E allora, ufficiale, i miei autori, Mimmo Torrisi, in primi sono innamorati di Luca Zaia, era una scheda praticamente, non so quanto l'ha vista, caro Zaia, ma insomma era un'elegia. Detto questo, Zaia, tra me e lei non si può più nascondere, 76,8, non può fare quello, io mi occupo del Veneto, chi se ne frega, non parlo di problemi nazionali, cavolo, come ha detto lei, grande potere, grandi responsabilità, un po' come Spider-Man, si deve fare, si deve fare vivo, secondo me. Ma no, guardi, mi viene in mente una frase che cito anche spesso, che è scritta nelle memorie di Adriano, della Jor Senar, che il vero luogo nativo è quel luogo dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso, per me è il Veneto, punto, è finita lì, nel senso che questo è un voto del popolo per il Veneto. Scusa, volevo dire a Padellaro, conferma della tesi di Torrisi, cita anche la Jor Senar, altro quello che è leghistarozzo, di che stiamo parlando? Va bene, scusi Zaya, l'ho interrotta, chiusavo con il mio amico Padellaro. No, dicevo, che saluto, buongiorno direttore, dicevo che questo è un voto dei Veneti per il Veneto e ha una sua sacralità, è una doppia responsabilità perché se ci penso mi sento il peso di questo grande voto che è importante, che non lascia nessun dubbio su chi sia il leader. Scusi, lei si rende conto di questa percentuale, fa un po' impressione in un paese come l'Italia, 76,8, alcuni dicono il Doge, altri dicono Bulgaro, Padellaro mi diceva che in realtà era la balena bianca, erano i voti che prendeva una volta la DC? Beh, guardi, era un'era glaciale fa perché poi, se ricordiamo la DC, aveva i voti e sceglieva i candidati al Parlamento con il sistema proporzionale e con la preferenza. Il governatore e il Presidente di Regione con la DC non veniva scelto dal popolo ma veniva scelto dalla politica in Consiglio regionale. Io non era glaciale fa. Diciamo che oggi noi abbiamo questa responsabilità e vorrei anche dire che ce n'è una di aggiuntiva e poi mi zittisco, scusi, che è rappresentata dal fatto che molto elettorato che non ci votava e che non ci vota, questa volta ha scelto di darmi il consenso e quindi ho anche la responsabilità di rappresentare degli elettori che magari resteranno nostri elettori ma probabilmente torneranno nell'alveo dei loro partiti. E questa è una responsabilità che voglio portare a pieno nella mia amministrazione perché il governatore sarà il governatore di tutti, del resto come ho sempre fatto. Intanto, complimenti Zaia. Non so se le faccio un favore ricordando che lei venne a trovarci al fatto nei primi giorni della nostra avventura. Fu un gesto che abbiamo apprezzato. Io parlavo, quando parlavamo della balena bianca con Mirta, parlavamo del blocco sociale, cioè c'è un Veneto che è sempre quello, anche se le generazioni passano, che è un Veneto solido che ha bisogno di concretezza e a questo proposito vorrei chiederle se lei è d'accordo sulla tesi, che poi sarebbe anche dimostrata dai fatti, secondo la quale queste sono le elezioni del Covid che hanno premiato quei presidenti di regione che hanno saputo gestire meglio questa disgrazia. Allora, Zaia, prego, manca merito del Covid perché vedo già Matteo Renzi e poi devo arrivare alla Camera da Renzi. Prego, Zaia. Ma guardi, io sono entrato in Covid il 21 febbraio e avevo già un consenso molto alto, del resto ne parlavate ad ogni piesso spinto di questo effetto Veneto sulle elezioni future regionali. Covid è stata un'ulteriore occasione per la conferma, diciamo, della nostra azione di governo, ma ricordo che in questi cinque anni io ho portato a casa la candidatura delle Olimpiadi, che è una mia idea, nel candidare Cortina, ho portato a casa un referendum per l'autonomia, che i veneti non è che restino indifferenti, 2 milioni e 300 mila veneti sono andati a votare, ho portato a casa l'ottavo sito patrimonio di umanità. Io parlavo incomplessivamente, chiedevo un suo giudizio complessivo sul voto di... Cioè il vero tema è un po' anche che deve fare la Lega prossimamente, Zaia, perché è complicato fare l'opposizione a un governo blindato, non è una roba semplice. Ma io penso che sia fondamentale intanto non paragonare queste elezioni e dare a queste elezioni solo contenuti politici, perché forse non tutti se ne sono accorti, ma di fatto ormai con l'elezione diretta e il modello di comunicazione che c'è, del rapporto diretto con i cittadini. Io sono stato eletto nel 2010, non c'era modo di de-chattare con il cittadino. Oggi il cittadino ti scrive su Instagram o su Facebook e ti domanda dei tamponi, ti domanda della infrastruttura. Quindi oggi la percezione del governatore è sempre più di quella di un grande sindaco. L'elezione diretta lo consacra ancora di più, quindi è inevitabile che forse le valutazioni politiche le lasciamo a fare ad altri. Allora, senta Zaia, torni presto, dobbiamo parlare anche di un po' di prospettive. Adesso devo andare via.